Salve a tutti, benvenuti a questa nuova lezione di storia. Oggi parleremo di un argomento particolarmente cruento, le guerre d'Italia, e parleremo anche di un grande imperatore, Carlo V d'Asburgo. Ma cominciamo appunto dalle guerre d'Italia e vediamo come e perché sono nate. Durante questa lezione darò risposta ad alcune domande guida, la prima della quale è la seguente. Quando e perché finì il periodo di pace seguito alla pace di Lodi e che cosa successe nell'anno 1495? La diapositiva che vedete dà risposta alla prima parte della domanda. Quando e perché finì il periodo di pace seguito al trattato di Lodi? Allora diciamo che nel 1494, questa è la data importante che vi dovete ricordare, finisce questo periodo di pace a causa della discesa in Italia dell'esercito del re di Francia, Carlo VIII. La discesa di questo esercito in Italia dà inizio a delle guerre che si chiamano appunto Guerre d'Italia. Come mai Carlo VIII venne in Italia con il suo esercito? Era successo che il reggente di Milano, Ludovico Sforza, chiamato il Moro, voleva impossessarsi definitivamente del potere su Milano e voleva toglierlo al legittimo duca, il nipote Giangaleazzo Visconti. Quindi per far questo, non poteva farlo da solo, chiamò il suo potente alleato, il re di Francia. Ricordatevi che la Francia, dopo la fine della guerra dei cent'anni che aveva vinto, possedeva l'esercito più potente d'Europa, con i cannoni migliori del mondo. Entrato in Italia, Carlo VIII, con questo suo poderoso esercito, non trovò opposizione, non c'era nessun esercito che potesse opporsi al suo e quindi il re di Francia percorse tutta la penisola, dal nord a sud, senza trovare nessuna opposizione. Qual era il suo fine, il suo scopo? Il suo scopo non era soltanto quello di aiutare l'amico e alleato Ludovico a impossessarsi di Milano, ma era quello di arrivare fino a sud al regno di Napoli e di impossessarsene, perché se ricordate nella seconda metà del 200 il regno di Napoli era di proprietà della casa reale francese degli Angiò e quindi, che poi appunto l'avevano persa, gli aragonesi se ne erano impossessati, quindi il motivo, lo scopo di Carlo VIII era quello di riprendersi il regno di Napoli. Rispondiamo ora alla seconda parte della domanda. Cosa successe nell'anno 1495? Beh, nel 1495 successero molte cose importanti. Intanto Ludovico il Moro ottenne ciò che voleva, cioè divenne duca di Milano, ma comprendendo che l'avanzata del re francese era un grave pericolo non solo per gli altri stati italiani, ma anche per lui, cercò l'alleanza degli altri stati italiani. Fu proprio Ludovico il Moro a cercare l'alleanza con gli altri stati italiani per cacciare quel re francese, quel Carlo VIII, che lui stesso l'anno prima aveva chiamato in suo aiuto. A questo fine gli italiani, capendo che non potevano farcela da solo perché l'esercito francese, come avevo detto prima, era sicuramente il più grande e il più potente d'Europa, chiesero aiuto all'altra grande potenza europea, la Spagna, che allora era governata da Isabella di Castiglia e da Ferdinando d'Aragona, come sappiamo. Tra l'altro l'esercito francese, così potente, così forte, venne anche colpito da una nuova malattia che lo indebolì moltissimo, la sifilide. La sifilide, come sapete, è una malattia a trasmissione sessuale che all'epoca nessuno sapeva come curare, per cui l'esercito francese vide morire moltissimi dei suoi componenti per questo contagio. Anche per questo motivo, anche perché appunto indebolito dalla sifilide, l'esercito francese, nello scontro, nella battaglia di Fornovo, venne sconfitto e il re Carlo VIII venne costretto alla ritirata. Quindi, cosa successe nel 1495? Ludovico il Moro diviene duca di Milano, Ludovico il Moro cerca l'alleanza degli altri stati italiani, questa alleanza antifrancese chiede aiuto alla Spagna, che viene dato ovviamente, l'esercito francese, indebolito dalla sifilide, viene sconfitto nella battaglia di Fornovo. Rispondiamo adesso alla domanda numero due. Quali furono le conseguenze della discesa di Carlo VIII? Ebbene, Carlo VIII lasciò l'Italia senza ottenere alcun guadagno. Egli morì due anni e mezzo dopo, lasciando alla Francia un grosso debito e perdendo tra l'altro delle province che ritornarono francesi solo dopo secoli. Quindi le conseguenze per la Francia sono nulle, ma anzi, addirittura potremmo dire negative. La sua discesa in Italia ebbe però una conseguenza importante in campo militare. Dimostrò infatti come l'artiglieria, i cannoni, potessero essere usata in modo vincente, non solo come arma d'assedio, ma anche in campo aperto. E poi ci sono le conseguenze per la nostra penisola. Per l'Italia le conseguenze furono catastrofiche. Infatti, ora, dopo la discesa di Carlo VIII, l'Europa intera sapeva che l'Italia era ricchissima, ma facilmente conquistabile, perché era divisa e difesa soltanto da truppe mercenari. E quindi l'Italia si trasformò in un vero e proprio campo di battaglia per decenni, ragazzi, non solo per un anno o due, ma per decenni. Un campo di battaglia che perse completamente la propria indipendenza ad esclusione di Venezia. Solo Venezia, solo la Repubblica di Venezia, che era ricca, era forte, riuscì a mantenere la propria indipendenza. Vi leggo un brano tratto da un libro intitolato Gli italiani di Luigi Barzini Jr., pubblicato da Mondadori, che vi rende l'idea della situazione che vissero gli italiani durante le guerre d'Italia. Gli austriaci, i tedeschi, i borgognoni, i francesi, i fiamminghi, gli spagnoli, gli ungheresi e vari altri popoli valicarono le Alpi o sbarcarono dalle loro navi. Ogni straniero vinse e perse a turno. Gli italiani persero sempre. Gli abitanti, gli italiani quindi, venivano derubati delle loro case e massacrati. Le donne erano violentate, i campi devastati, le fattorie demolite, i magazzini vuotati, i barili di vino forati a colpi di archibugio, le chiese profanate, il bestiame abbattuto, le belle città saccheggiate, smantellate e incendiate. Bande di disertori che si davano alle razzie, la feccia d'Europa, cioè i peggiori uomini d'Europa, vagavano per le campagne. Fame e pestilenze dilagavano come in un incendio di stoppie. Quel che accadde negli ultimi 18 mesi della seconda guerra mondiale, gli alleati di ogni colore in lotta contro i tedeschi, i fascisti alle prese con gli antifascisti, le città ridotte in macere, i fanciulli affamati che mendicavano, le donne che si vendevano per un tozzo di pane, gli uomini deportati, torturati, uccisi dalle SS, il dilagare della fame, della disperazione, della corruzione e delle malattie. Ebbene, quello che accadde negli ultimi 18 mesi della seconda guerra mondiale, continuò in Italia dopo la battaglia di Fornovo per oltre 60 anni. Quindi veramente una cosa incredibile, devastante. Rispondiamo adesso alla domanda numero 3. La discesa di Carlo VIII dette il via alle cosiddette guerre d'Italia. Cosa sono? Chi le ha combattute? Dove sono state combattute? Per quali motivi? Quando sono terminate? Chi le ha vinte? Quindi parliamo proprio di queste guerre d'Italia di cui abbiamo detto l'ingresso in Italia dell'esercito di Carlo VIII essere il momento iniziale. Le guerre d'Italia sono una serie di otto conflitti successivi che durarono in tutto 65 anni. Sono iniziate ovviamente nel 1494 la discesa di Carlo VIII di Francia e si sono concluse nel 1559. Chi le ha combattute? Le hanno combattute i principali contendenti perché poi ovviamente in Italia c'è stato di tutto, sono venuti tutti i popoli europei a combattere, ma i principali contendenti sono stati la Francia da una parte, la Spagna e l'impero alleate dall'altra. Dove sono state combattute? Questi conflitti sono stati combattuti tutti in territorio italiano e quindi devastando completamente la penisola. Per quali motivi queste tre grandi potenze, Francia, Spagna, alleata con l'impero, sono venuti in Italia a combattere? Beh, il primo motivo ovviamente è questo, per impossessarsi delle ricchezze italiane, ma anche per ottenere la supremazia in Europa. Combattevano gli uni contro gli altri anche per questo motivo, per capire chi era il più potente. Quando sono terminate? Abbiamo già detto, sono terminate nel 1559 con la pace di Catu Cambresy. Chi le ha vinte? L'ha vinte la Spagna, quindi la Spagna, alleata con l'impero, hanno battuto in territorio italiano la Francia. Rispondiamo alla domanda numero 4. La più importante delle otto guerre d'Italia fu il conflitto del 1525-1530. Parla della prima fase di tale conflitto, chi furono i contendenti, quale fu la battaglia principale e in quale anno venne combattuta, chi la vinse, come vinse e quali furono le conseguenze di tale battaglia. La prima fase del conflitto del 1525-1530 si svolse nel 1525. I contendenti furono Francesco I, che era re di Francia, e Carlo V, imperatore e re di Spagna. La battaglia principale fu quella svoltasi a Pavia nel 1525. Le sorti dello scontro si risolsero a favore di Carlo V, anche perché Carlo V si poté permettere di utilizzare su larga scala una nuova arma, l'archibugio. Le immense risorse, le immense ricchezze a disposizione dell'imperatore, infatti, gli avevano consentito di poter comprare, di poter disporre di molti archibugi, queste nuove armi devastanti. Durante la battaglia Carlo V riuscì a catturare Francesco I, quindi il re di Francia venne fatto prigioniero e fu costretto a firmare una pace molto pesante per ottenere la libertà. Addirittura dovette poi pagare un forte riscatto per poter liberare anche i suoi figli, che erano rimasti prigionieri degli spagnoli. E l'altra grande conseguenza di questa battaglia fu che i francesi vennero cacciati dall'Italia. Sembrò che fossero stati cacciati definitivamente, ma in realtà fu solo una cosa momentanea. La domanda 5 vi chiede sempre di parlare di questo conflitto del 1525-1530, ma di concentrarvi sulla seconda fase di tale conflitto e di dire chi furono i contendenti, cosa accade nel 1527 e come finì il conflitto nel 30. Allora, l'anno successivo, il 1526 appunto, l'anno successivo alla battaglia di Pavia, i principali stati italiani si unirono alla Francia per formare un'alleanza contro Carlo V, quindi i contendenti adesso sono la Lega di Cognac tra Venezia, Firenze, Stato della Chiesa e la Francia, che evidentemente non si sentiva del tutto sconfitta, contro Carlo V. Carlo V inviò un esercito per affrontare la Lega di Cognac. Questo esercito entrò in Italia, ma essendo ormai senza paga da molti mesi, perché evidentemente le spese della guerra erano talmente alte che neanche le finanze quasi inesauribili di Carlo V riuscivano a pagare lo stipendio a questi mercenari. Ecco, dicevo appunto che questo esercito, questi lanzichenecchi di Carlo V, si chiamavano così soldati mercenari imperiali, i lanzichenecchi, i lanzichenecchi si ammutinarono e decisero di propria iniziativa di marciare su Roma per saccheggiarla. Quindi che cosa accadde nel 1527? Ci fu il sacco di Roma, che durò vari giorni e il papa, Clemente VII, che era della famiglia dei Medici, si dovette addirittura rifugiare in Castel Sant'Angelo mentre i lanzichenecchi rubavano, stupravano, distruggevano Roma. Carlo V ufficialmente deplorò l'azione dei suoi lanzichenecchi, cioè criticò l'azione dei lanzichenecchi, la disconobbe, ma poi se ne servì continuando a tenere prigioniero il papa perché gli faceva molto comodo. Inutili furono i ripetuti tentativi di liberarlo da parte dei francesi che continuarono a inviare truppe in soccorso di Clemente VII. Il papa rimase prigioniero finché nel 1529 non si decise ad arrendersi, firmò un trattato con l'imperatore, uscì dalla Lega di Cognac, ottenendo in cambio almeno che Carlo V rimettesse al potere a Firenze la sua famiglia che ne era stata appena cacciata. Quindi il papa si arrende e nel 1530 incorona Carlo V imperatore e Carlo V diventa il vero e proprio padrone dell'Italia. Abbiamo più volte citato Carlo V d'Asburgo. A questo punto dobbiamo vedere in maniera un pochino più precisa di chi si tratta, chi era Carlo V d'Asburgo e dobbiamo sapere di lui diverse cose. Prima di tutto di chi era figlio, poi quali territori aveva ricevuti in eredità dalla madre e quali aveva ricevuti in eredità dal padre ed infine come veniva definito il suo impero. Questo appunto chiede la domanda numero 6. Chi era Carlo V? Chi erano i suoi genitori? Carlo V era figlio di Filippo d'Asburgo e di Giovanna di Castiglia. Dalla madre quindi aveva ricevuto in eredità la Spagna, il regno di Napoli, le colonie americane, quindi territori ricchissimi e vastissimi. Dal padre, d'altra parte, Filippo d'Asburgo aveva ricevuto in eredità i domini degli Asburgo, il diritto al titolo imperiale che ormai da secoli era sempre stato assegnato alla famiglia degli Asburgo e soprattutto aveva ricevuto in eredità le ricchissime fiandre. Carlo V quindi, vedete, era in possesso di un impero enorme, un impero che era talmente grande da essere chiamato l'impero su cui non tramonta mai il sole, perché quando il sole tramontava in America sorgeva in Europa e viceversa. E rispondiamo adesso alla domanda numero 7. Chi erano i nemici di Carlo V e perché ciascuno di loro gli si opponeva? Ora voi capite che Carlo V riuniva nelle sue mani un potere enorme ed era anche intenzionato a riportare l'impero alla sua grandezza originaria, però le sue azioni si velarono sempre improduttive perché si ritrovò a combattere contemporaneamente contro ben quattro nemici potenti sia interni che esterni e questo dispiego di energie, questo continuo spendere soldi per difendersi contro quattro nemici fece sì che come abbiamo visto per esempio nel 1527 gli non avesse neanche i soldi per pagare i soldati che aveva mandato in Italia. Quindi troppi nemici ecco per cui Carlo V non riuscì mai a ottenere veramente quello che voleva. Ma vediamolo uno per uno i suoi nemici. Intanto il primo luogo ovviamente è la Francia. La Francia che come vedete si sentiva accerchiata dai territori in possesso di Carlo V che aveva come abbiamo visto la Spagna, l'Italia e l'impero. La Spagna accerchiata si oppone ovviamente al nostro Carlo V. E poi i turchi. I turchi che dal sud-est, dalla penisola balcanica, stavano risalendo, stavano espandendosi nei Balcani e ovviamente si trovavano di fronte, che impediva loro l'avanzata ulteriore, proprio l'impero di Carlo V. E poi il papa. Il papa temeva il ritorno di un potere imperiale forte. Anche il papa, come vedete, territorialmente si trovava circondato da possedimenti di Carlo V, l'impero a nord, il regno di Napoli a sud. Quindi anche il papa, proprio come la Francia, temeva molto questo strapotere dell'imperatore Carlo V. Ed infine il nemico interno, i principi protestanti tedeschi. Ecco, come vedete dall'immagine, l'impero era diviso in tantissimi piccolissimi stati indipendenti, ognuno governato da un diverso principe. Questi piccoli principi, con un imperatore così potente, ovviamente temevano di perdere la propria indipendenza. Ecco perché gli si ribellarono, cercarono di opporglisi. E siamo finalmente arrivati a rispondere all'ultima domanda, la numero 8. Cosa riuscì a ottenere Carlo V e che cosa successe nel 1556? Beh, cosa riuscì a ottenere Carlo V? Ben poco. La sua azione fu sempre, possiamo considerarla sempre improduttiva. Per quale motivo? Il motivo è semplice, aveva troppi nemici e quando riusciva a sconfiggerne uno, non poteva mai portare in fondo l'azione perché immediatamente gli altri si alleavano tra di loro e glielo impedivano. Lo attaccavano da un'altra parte, impedendogli di portare appunto a compimento l'azione contro uno dei suoi nemici. Cosa è successo nel 1556? Nel 1556 Carlo V decise di abdicare, cioè di lasciare il trono. E quindi questo dimostra il fallimento del suo progetto. L'imperatore fu costretto a lasciare il trono, ad abdicare in favore del figlio Filippo II d'Asburgo e al figlio dette i territori migliori, i territori più ricchi. Gli andarono la Spagna, ovviamente con le colonie americane, gli andò l'Italia e gli andarono le ricchissime Fiandre. E l'altra parte dell'impero, perché appunto dicevo l'impero venne diviso in due parti, questo enorme impero era impossibile da governare tutto insieme, l'altra parte dell'impero andò al fratello, il fratello Ferdinando prima. A lui andarono un po' le gatte da appelare, andarono i territori più complicati e gli andarono quindi l'Austria, tutti gli altri domini asburgici, il titolo imperiale e tutti gli altri territori imperiali. Quindi da questo momento in poi l'impero di Carlo V è diviso, sono sempre Asburgo, però Asburgo di due rami, di due casate diverse, una che fa capo al figlio di Carlo V, Filippo II, e l'altra che farà capo al fratello di Carlo V, Ferdinando I. Bene, con questo noi abbiamo concluso. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione.